L'area clienti PEC e servizi certificati è un pannello operativo da cui ti è possibile gestire, pagare e rinnovare i tuoi ordini. Per iniziare, collegati alla pagina areaclienti.pec.it e scegli se entrare con l'indirizzo completo della tua casella PEC e la relativa password o con l'account Aruba. La pagina principale contiene funzioni veloci di gestione dei servizi e ti consente l'autenticazione delle aree dedicate, quali posta certificata. In caso di nuovo acquisto, puoi collegarti alla pagina del sito commerciale per eseguire l'ordine. Puoi accedere alla webmail per leggere la tua posta personale e gestire la casella certificata. Dall'area Speed puoi acquistare il servizio o gestirlo nel caso di acquisto già effettuato. Le medesime operazioni puoi eseguirle dall'area Firma digitale, Conservazione sostitutiva e Fatturazione elettronica. Dall'area Marca temporale puoi acquistare, rinnovare o gestire il servizio. Dall'area Supervisore 360 puoi accedere direttamente all'area dedicata al servizio oppure gestire le informazioni di contatto. Per concludere, l'area Hosting, da cui puoi gestire i domini relativi ai servizi aggiunti attivi, con la possibilità di effettuare nuovi ordini, comunicare eventuali pagamenti o annullare ordini.